C'è scritto il nome di Lorenzo Laverone sul primo regalo che Walter Novellino troverà nella calza della Befana per questo fine settimana. Il calciatore, attualmente in vacanza a Barcellona, firmerà un contratto biennale con l'Avellino non appena tornerà in Italia. L'accordo prevede infatti il riscatto obbligatorio del suo cartellino da granata nel caso in cui i lupi resteranno in cadetteria. Raggiunto telefonicamente in terra iberica, l'ormai ex salernitano ha indirettamente confermato le indiscrezioni. Per ora niente, perché comunque ancora sto aspettando che il mio provolatore mi dica qualcosa, quindi per ora non ti posso dire nulla. Trattativa e si devono vedere ora, fa tutto lui, io sono a casa, quindi non so cosa dirti a che punto sono, però sto aspettando soltanto che mi dica qualcosa. Chiuso il primo acquisto, domani mattina Enzo De Vito proverà a mettere le mani sull'elemento che serve di più a Novellino. Si tratta di Robert Gucker, austriaco che ha preso tempo, anche perché seguito con insistenza pure da Pisa, Perugia e Vicenza. Da parte sua il Frosinone spinge per mandarlo in Irpinia, dal momento che vuole abbattere il costo del cartellino di Mokulu che lunedì prenderà la strada per la ciociaria con Cocco che invece farà quella inversa. Dovesse saltare Gucker, ipotesi non improbabile, sono già stati fatti dei sondaggi con Scozzarella del Trapani e Pedersoli del Venezia. Stesso discorso per la fascia sinistra dove al posto di Sini, che deve liberarsi ancora dall'Entella, si guarda con attenzione al rizzato del Trapani. Grazie a tutti.